Questi dati non segnano mai più di dieci, fanno così per non compromettersi. E la stanza in cui vivo è un dado, ma non ho abbastanza mani per tirarlo lontano. Distanze che non beccano mai, che era una probabile carezza di ossigeno. Devo ancora imparare a respirare, ma mi va bene così e non ho tempo per cambiare poi. E sempre me, e sempre me, e sempre me, e sempre me. E sempre me, e sempre me, e sempre me. Subito, o forse è meglio così, io non ti aspetto. Potrei avere qualche problema se tu tornassi davvero, ma... E sempre me, e sempre me, e sempre me, e sempre me. Pergheracingmi. Pergher engaging. We along le situazioni. Si verte должaplaces e volare... E sempre me, e sempre me necessitai... Grazie a tutti